La grande epica indiana, il Ramayana, è stata narrata attraverso i millenni da poeti, attori e scrittori. È una storia di coraggio e paura, amore e odio, devozione e tradimento. L'epica copre i tre mondi, degli dèi, degli umani e dei demoni. Qui le forze del bene e del male si scontrano, intrappolate nella battaglia per la supremazia ultima. Rama, il principe ereditario del regno di Kosciala, discendente dell'antica dinastia del sole, deve affrontare pericoli inimmaginabili. Ma cosa gli riserva il destino?